Sì, sì, sì. Era questa qua che faceva da pelle. Poi c'era una calcettaccia con la foglia che si possono fare pure all'insalato. E poi si chiama pereschia puleate. Pereschia perché fa questa pelle e il dente tiene pochi semi. E' molto bello perché fa una piovedura. Insomma ragazzi vi siete resi conti che qua ci sarebbe da passare un interno.